un mondo di musica radio vacanze protagonisti del tuo tempo libero potevamo fare una radio solo commerciale invece abbiamo preferito fare una radio di informazione trasparente così vicino all'agenzia di viaggio ai turo perere agenzie alle guide turistiche alla filiera del turismo per chiare la rifincia attraverso contenuti di valore come abbiamo fatto con i colleghi di sinergia turismo buona pasqua da giallo di gira di vacanze e da tutto lo stato ciao ciao a tutti da luisa agenzia viaggi miro ancona dalle marche di sinergia turismo auguri di buona pasqua a tutti qua ciao ciao a tutti sono aurora della york sinescio di cuneo un saluto dal fantastico parco della città auguri di buona pasqua a tutti e siamo in sinergia turismo ciao ciao sono cinzia della gamba viaggi di benafro in molise faccio parte di sinergia turismo e auguro a tutti una buona pasqua buongiorno sono rosario non legge un conducente vi auguro una buona pasqua da palermo e sinergia turismo sono la ravenza sono una campagna turistica mi trovo più a mondello in palermo vi voglio augurare una buona pasqua insieme a sinergia turismo ciao a tutti sono fabrizio cassara gestisco il grande del bar di palermo e voglio augurare a tutti voi una serena pasqua con sinergia turismo sono maria rosaria mancoboni della univadi fossombrone un saluto a tutti dalle splendide colline marchigiane e anche io faccio parte di sinergia turismo ciao ciao a tutti sono angelo cavallaro agenzia i viaggi di zefiro di catanzaro in calabria siamo su sinergia turismo auguri di buona pasqua a tutti di una veloce rinascita ciao buonasera sono maria corbino dell'agenzia di viaggi terre preziosi di casal di principe siamo in sinergia turismo vi auguro una pasqua di risurrezione come la rinascita del nostro settore auguri buongiorno a tutti sono francesco e sono un ncc di palermo volevo farvi gli auguri di una buona serena pasqua da parte mia e da parte di sinergia turismo buongiorno a tutti sono elena romano e vi auguro una buona pasqua da ragusa e da sinergia turismo ciao a tutti di sinergia turismo sono nico della josue transfer vi auguro buona pasqua e soprattutto di ripartire presto auguri buongiorno mi chiamo ornella e mi occupo di in camming nella splendida città di torino e in piemonte l'agenzia di riferimento è on aero sin cam in piemonte vai nel mondo in valigia con questo breve video vorrei augurare una buona buonissima pasqua a tutti una pasqua che sia finalmente di rinascita nel vero senso della parola e ovviamente con sinergia turismo sempre buona pasqua da palermo nel profondo sud massimo lo bianco guarda che pio il sinergia turismo tanti auguri di buona pasqua buongiorno a tutti amici colleghi di sinergia turismo sono sonia che c'è Stefani volvo va di strana il mio ricerimento auguro a tutti voi di passare di pasqua e seppur lontani non siamo mai stati così grazie a presto auguroni a tutti buongiorno a tutti sono federico di urbino in camming agenzia di viaggi e servizi al turismo e con questo breve video volevo fare gli auguri a tutti di una buona pasqua e naturalmente la speranza di poter presto ripartire viaggiare insieme e lavorare insieme con sinergia turismo buona giornata a tutti e ancora auguri ciao a tutti sono marina dell'agenzia templari travel di massapra vi auguro una serena pasqua dalla puglia con questo meraviglioso sole e siamo in sinergia turismo ciao ciao sono giampaolo il bimbi non è io le di lecce faccio parte del gruppo sinergia turismo e auguro una serena pasqua a tutti quanti voi e una ripresa e una rinascita del nostro turismo in italia buona pasqua a tutti ciao olimpia attanasio mondial travel agenzia specializzata in outgoing auguro a tutti voi buona pasqua e anche noi siamo nel team sinergia turismo chiara e alì per la nome un viaggi castelli romani siamo in sinergia turismo auguri e buona pasqua buongiorno a tutti sono barbara vizzini una guida turistica vi auguro una serena pasqua da palermo il nostro teatro massimo è sinergia turismo ciao sono laura di tu qui tour tour operator di fano un augurio di una serena pasqua dai nostri bellissimi paesaggi marchigiani e dal borgo di montefabri siamo in sinergia turismo buongiorno a tutti sono lusi denaro e da sinergia turismo qui alle mie spalle vedete il santuario della madonna delle lacrime vi auguro una buona e serena pasqua insieme a sinergia turismo ciao a tutti sono francesca una guida turistica di palermo ci tengo a augurarvi una buona pasqua e una buona pasquetta con la speranza di ripartire presto insieme a sinergia turismo ciao a tutti sono simona agenzia il viaggiatore lake and mountain tours vi porteremo a scoprire il lago maggiore e le nostre magnifiche valvisolane stay strong and keep traveling siamo su sinergia turismo ciao sono tania dell'agenzia di viaggi nuovi mondo di san severino marche e anche noi siamo sinergia turismo pasqua da sempre è stata sinonimo di rinascita ma mai come quest'anno dobbiamo crederci fino in fondo perché solo insieme ce la possiamo fare forza a tutti i colleghi di sinergia turismo buona pasqua che sia una pasqua di rinascita e che possiamo presto tornare a viaggiare tutti quanti forza sinergia turismo buona pasqua dallo staff virtus viaggi di palermo sicilia buona pasqua ragazzi auguri 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 viatrice gazzini vice viaggi in coming to operator dalla Toscana buona pasqua e siamo in sinergia turismo ciao sono fulvia del velocifero viaggi di castellanza siamo in sinergia turismo e voglio augurare a tutti una buona pasqua sperando in una rinascita per tutto il settore ciao auguri ciao a tutti sono loredana canova una guida turistica di palermo dalla mia città dominata da un meraviglioso monte pellegrino auguro a tutti una serenissima pasqua con sinergia turismo tiziani viaggi di titti agenzia di viaggio e tour operator di roma zona euro laurentina tanti tanti auguri a tutti quanti cari colleghi e siamo in sinergia turismo siamo in sinergia turismo e auguriamo a tutti buona pasqua ciao da Ornella, Cristina, Chiara, buona pasqua buongiorno a tutti sono Giovanni del front office del quinto canto hotel spa di palermo tantissimi auguri di buona pasqua a tutti da sinergia turismo ciao a tutti e buona pasqua sono anch'io a farvi gli auguri con sinergia turismo sono Marina Fibrao giornalista specializzata del travel trade e sono qui nel Lazio a un borgo pochi chilometri a nord di Roma un abbraccio forte a tutti quanti con la speranza che si riparta anche dall'Italia che prima questa nostra materia prima bellissima mandava un sacco di margini all'estero teniamoli in Italia così rifacciamo anche il lavoro un abbraccio a tutti, baci, state bene Un mondo di musica Radio Vacanze, protagonisti del tuo tempo libero